Viste le attuali condizioni del mercato, vi suggerirei... Direttore! Dicevo, suggerirei... Direttore! Diretto! Sono un attimo. Ma nel coscuso ce la metti e la zucchina. Ha voglia! E ricordati della scorzetta di limone, che è la morte sua. Andrei su una soluzione più adatta alle vostre... Siamo parte di una grande comunità, con i suoi valori, i suoi sogni e le sue speranze. Siamo Banca Popolare di Bari, la banca della porta accanto. Ma nel coscuso, un po' di ventuccia, no?